Le magliette Allegri Out le trovi solo nella vetrina sotto questo video e su absim.creator-spring.com Acquistale e diffondi il verbo Ciao da Absim! Oggi gioca... Oggi gioca... Oggi gioca la Juventus Oggi gioca la Juventus Con questa maglia, non lo so, nel dubbio ci sono quelle Allegri Out che potete acquistare dalla vetrina Qui in basso Perché rido? Aprendo a ridere No, non so con quale maglia si gioca perché ultimamente non si sta capendo nulla Secondo me stanno facendo delle scelte un po' strane sulla maglia Oggi è una trasferta, loro sono Granata, quindi tecnicamente andrebbe benissimo questo L'abbiamo indossato altre volte, ma magari metteremo la maglia nera Ma non ci provo più neanche ad indovinare Tanto che cosa posso mai indovinare io La speranza è che Allegri venga esonerato Ma come potete ben vedere, come avete sicuramente letto Non c'è speranza che oggi Allegri possa essere esonerato O forse c'è, ma è piccola, piccola, piccola così Quindi diciamo che è trascurabile Già si scrive, già si scrive per esempio su Tutto Sport Se si dovesse perdere non sarebbe esonero Ma si aggraverebbe la situazione per novembre Spiegatemi questa cosa, che senso ha? Ma che senso ha? Qui veramente stanno aspettando le vittorie Purché sia Cioè se oggi la Juve vince in maniera assolutamente fortunosa È un risultato positivo Sicuramente sono tre punti Ma nella crisi che stiamo vivendo Che è una crisi di prestazioni Che è una crisi di tattica, di idee, di allenamenti Una vittoria non sposta assolutamente nulla E quindi stare qui ad aspettare Che magari vinci una partita Come magari diceva sempre Ha sempre detto Allegri Magari facciamo gol Magari segna Rabiot Magari segna McKennie Con Vlaovic i gol si trovano Stiamo ad aspettare che magari vince E quindi che cosa dovrebbe cambiare? Quindi perché si dovrebbe aspettare novembre? O perché una sconfitta oggi dovrebbe cambiare le cose per novembre? Cioè o cambia le cose subito O le cambia immediatamente Oppure non le cambia affatto Evidentemente i giudizi sono stati già espressi Le decisioni sono state già prese E quindi come abbiamo ben capito Non se ne parla di liberarci di questo allenatore Fino a giugno Fino a giugno Io ci credo veramente pochissimo Che Allegri sarà mandato via Prima di giugno Per il famoso discorso della clausola Ora per quanto riguarda la conferenza stampa Non ci sono neanche contenuti lato Juve Lato Juve su questa partita Ce ne sono tanti lato Torino Perché c'è la conferenza stampa di Juric Che ha detto un sacco di cose interessanti E poi come sempre vi dico dal mio punto di vista Come gioca il Torino E vi mostro la mia classica tabella Di Instat con i dati Sulle partite Quindi sul rendimento del Torino E della Juventus Fin qui in questa stagione Ma soltanto limitiamoci alla Serie A Che ci dicono un pochino Lo stato di salute delle due squadre E quali sono gli highlights Quindi in che cosa il Torino è forte In che cosa è più forte la Juventus Perché la Juventus forte Quest'anno non è assolutamente in nulla Se non nel farci arrabbiare Se non nel deluderci Però su qualche cosa È un pochino meglio del Torino Però stiamo parlando di una squadra Il Torino Che chiaramente Chiaramente ci può mettere in difficoltà Chiaramente ci metterà in difficoltà Anche perché ripeto Qui stiamo parlando di vincere Stiamo parlando di formazioni Cose inedite 3-5-2 Dopo ovviamente parliamo anche di quello In un contesto tra l'altro Che io sinceramente il derby non lo sento Come ben sapete Come ben potete immaginare Non sono Non essendo di Torino Non essendo piemontese Per me il Torino è un avversario Leggermente diverso da altri Ma non un avversario speciale Però va detto Che l'ultima sconfitta Della Juventus contro il Torino Fu proprio in trasferta Fu proprio con Allegri Alla prima stagione Il 26 aprile 2015 Che perdemmo 2-1 Ed è l'unica sconfitta della Juve Negli ultimi 27 anni Cioè per andare a trovare Un'altra sconfitta Della Juve col Torino Tra l'altro Nella stessa stagione In casa e in trasferta Bisogna andare al 1995 L'ultima sconfitta Unica sconfitta In 27 anni Quella di 7 anni fa È il 155esimo derby Della Mole In Serie A E 181esimo In gara ufficiale E come sempre Lo seguiremo In diretta Quindi live reaction Dalle 17 e 30 Su questo canale Iscrivetevi per partecipare Alla chat testuale E abbonatevi per partecipare Alla chat vocale Ci sono tutti i piani Di abbonamento Spiegati qui sotto A partire da 99 centesimi Al mese Per avere tanti vantaggi E con l'abbonamento base Potete già partecipare Alla chat testuale Del mio commento In diretta post partita Più o meno Intorno alle 20 In cui commenteremo Che tipo di partita Che tipo di prestazione Non mi aspetto nulla Ma sono già deluso Dal punto di vista Dei contenuti Dicevo Che cosa ha detto Juric Vediamo che cosa ha detto Juric Poi andiamo Su come gioca il Torino I dati E soprattutto Soprattutto le formazioni Perché sulle formazioni Abbiamo tante cose da dire Sulla probabile formazione Della Juventus Juric ha detto Questa la dobbiamo vincere Perché l'anno scorso Il Torino Se l'è giocata Alla pari Con la Juve E ha rischiato Anche di vincere Ricordate l'andata Che fu in trasferta Il Torino attaccò E noi segniamo Con Locatelli E vincemmo Al ritorno invece Il Torino ci mise sotto E finì in pareggio E lì Allegri Si contraddisse Perché eravamo appena venuti Dal pareggio Rocambolesco Con l'Atalanta Traversa di Atebor Poi segna Danilo Alla fine A Bergamo E disse Allegri Se vinciamo col Torino Nel derby Questo qui sarà stato Un buon pareggio Con l'Atalanta Andiamo a pareggiare Col Torino E lui dice Che sono stati Due buoni pareggi Perché ha sempre fatto Così Dice una cosa E poi dice Il contrario Si contraddice Con disinvoltura E nessuno Glielo fa notare Nessuno Glielo fa notare Quindi dice Iuric Adesso siamo in grado Di vincere Anche perché Possiamo Prenderci Una grande soddisfazione Ci meritiamo Una grande soddisfazione Per quello che è Il lavoro Che abbiamo fatto Per come stiamo Crescendo Per il calcio Che stiamo offrendo E per le statistiche Che abbiamo D'altra parte Non deve esserci Una frustrazione Se dominiamo Le partite Senza fare punti Anche se Avremmo meritato Dei punti in più Ci mancano Dei punti E ci mancano Dei gol fatti Sia l'anno scorso Che quest'anno Per quanto riguarda La Juventus È una squadra Chiaramente in difficoltà Ma quando è in difficoltà Ritrova compattezza E a tratti Esprime potenza Accelerazione E qualità Ma dice Iuric Non so che cosa Aspettarvi dalla Juve Perché a livello di modulo Possono fare qualunque cosa Però Abbiamo visto Come li ha Messe in difficoltà Il Maccabi E quindi Cercheremo di fare La nostra partita Soprattutto Facendo i cross Dalla tre quarti Perché il Torino È una squadra Che crossa parecchio Quindi cercheremo anche di imitare Quella che è stata La buona prestazione Del Maccabi Haifa Per quanto riguarda I singoli Schurz Il sostituto di Bremer Dice Iuric È in crescita Già sta crescendo Stiamo facendo un lavoro Specifico su di lui E sono molto soddisfatto Ma d'altra parte Bremer è un top Che può aver Subito un contraccolpo In questo passaggio Da Torino a Juventus Ma resta un grande giocatore E dovremo stargli lontano Perché altrimenti Non ti lascia Spazio Quindi Iuric Conosce benissimo Bremer Perché se non fosse stato Per Iuric E Bremer Forse non l'avremmo mai Conosciuto noi Cioè Sarebbe stato uno Dei tanti giocatori Della serie A Nulla di straordinario E io vorrei ricordare questo Perché siamo a un crocevia Che ci siamo esaltati Qualcuno Qualcuno Si è esaltato enormemente Quest'estate Per l'acquisto di Bremer Che io ho immediatamente Definito Strapagato E mi hanno attaccato Screditato Per questo Come al solito E adesso E adesso Che ne è Del miglior difensore Della scorsa serie A Sarà forse Che ha sbagliato Squadra Ma soprattutto Allenatore Sarà forse Che è Iuric Il fautore Di quel titolo Di quel riconoscimento Per Bremer Lo vedremo anche oggi Lo vedremo anche oggi Dove Bremer Forse Potrebbe anche Ritrovare Il suo assetto Tattico Prediletto E infine Sempre Iuric Per quanto riguarda Ancora i giocatori Ha detto Sanabria Ovviamente Sarà probabilmente Assente Ma puntava a recuperarlo Nelle ultime ore Altrimenti Si tratta di Adattare qualcuno A livello Di punta Quindi Di utilizzare Un falso 9 Ma probabilmente Non Mirancuk Perché dice che Mirancuk Preferisce Che possa Iuric preferisce Che possa giocare In un ruolo Che gli è Più consono Dopodiché Ha anche detto Che comunque A livello di statistiche Stanno offrendo Degli ottimi Dati Stanno dimostrando Di essere una buona squadra Una squadra seria Una squadra in crescita Ed infatti Tra l'altro Il Torino Ha soltanto Due punti Meno Della Juventus Quindi in caso Di vittoria Il Torino Ci sorpassa Non solo Ma ci sono Anche altre due squadre Che potrebbero Sorpassarci In questa giornata E quindi bisogna Dare un'occhiata Alla classifica Perché La sconfitta Inutile dirlo Sarebbe Un ulteriore peggioramento Della già pessima Media punti Della Juve In questa stagione Sarebbe appunto Un'ulteriore Perdita di terreno E di posizioni In classifica Ma pure il pareggio Ma pure il pareggio Con il pareggio Come cresci Cioè se abbiamo Una media Inferiore a due punti A partita Ma superiore a uno Se fai un pareggio Stai rallentando Come può essere Un risultato positivo Un pareggio Fossa anche Con un Torino In trasferta Che comunque Ha più o meno I tuoi stessi punti Non può essere Un risultato positivo Invece per Allegri Lo sarebbe Ma siamo già pronti A sbugiardare Questa cosa Non sarebbe Non sarà Il pareggio Un risultato utile Sarà utile Solo per lui E per le sue chiacchiere Ma non per noi Che cerchiamo Di rimanere seri E di non farci Prendere in giro I dati Che per Allegri Lasciano il tempo Che trovano Non ci prendono in giro E allora Vi mostro intanto La tabella E poi Come gioca il Torino E chiudiamo Con indisponibile formazione La tabella Di Instat Che ho elaborato Per voi Cioè ho dato io L'input Di come sistemarla Nel senso Ho scelto Le metriche E le partite Da individuare Vi ripeto Sulle prime nove partite Di serie A Come vedete Le stelle Ci dicono Che il Torino È una squadra Per larghi tratti Superiore alla Juventus Vediamo nello specifico Il Torino Fa più possesso palla 54 a 50 Di media Più numero Di possessi 97 a 93 Con la stessa Durata media In secondi 18 Ma più azioni Quindi anche più tocchi 810 A 747 Più o meno lì L'efficacia Delle azioni 79 a 80 Per la Juve Naturalmente Anche più passaggi Facendo più possesso 496 a 489 Stessa percentuale Di precisione 86 E non è normale Che la Juve Abbia la stessa percentuale Di precisione Di passaggi De Torino Addirittura Maggiore precisione Sui cross 36 a 30 30 non è male Per la Juve Ma 36 È tanto per il Torino Passaggi chiave completati Di più la Juve Di poco Un 10% in più 3 e 4 a 3 Stesso numero di occasioni Da gol a partita Con una migliore percentuale Di conversione La Juve 19 a 16 Stesso numero Di tiri effettuati A partita Ma il Torino È più preciso 37 a 35% I gol Appunto il Torino È sotto un gol A partita 0,89 Ma la Juve È leggermente sopra Siamo sempre A 1 e 3 Eravamo 1 e 3 Pure la giornata scorsa Se è segnato E insomma Abbiamo Anzi no Non abbiamo neanche segnato Poi con Con il Milan Insomma Più o meno Siamo lì Balliamo Galleggiamo Intorno a un gol E 3 a partita Che è veramente poco Però Andiamo a vedere Gli expected goals Siamo più o meno lì E quindi Il Torino 1 e 43 La Juve 1 e 42 Questo significa Che il Torino Effettivamente Ha un potenziale Inespresso Ma d'altra parte Soffrono meno Perché gli avversari Fanno 1 e 21 XG a partita La Juve Gli avversari della Juve 1 e 39 Quindi la Juve In campionato Da poco Ha invertito Ha invertito La tendenza Andando in pari Però Andando in pari Tra XG propri XG degli avversari Mentre precedentemente Era in passivo Cioè Gli XG degli avversari In media partita Erano più alti Di quelli della Juve Il Torino invece È abbastanza Inattivo Con più 0,22 Poi Il Torino Fa più penetrazioni In tutti i settori Del campo Di più Nella metà campo avversaria Di più nell'ultimo terzo Di più nell'area di rigore Fa più pressing Ovviamente E anche con maggiore efficacia Sia nel pressing Soprattutto nel pressing Alto Nel pressing basso Più o meno Ce la giochiamo Poi intercettano Più palloni Vincono più palle contese Decisamente Di più Fanno più o meno Lo stesso numero di contrasti Ma hanno Un'efficacia maggiore Fanno anche più falli E prendono più gialli Quindi comunque Il Torino Recupera meglio Il pallone E lo vediamo anche dopo Un altro dato Poi Fuori gioco Va bene Duelli Ne fanno di più Ma E quindi ne vincono di più Perché più o meno Abbiamo la stessa percentuale Però appunto Andando ad applicare 48 su 160 E di più di 50 Su 122 Intuitivamente Più o meno La stessa percentuale Di efficacia Nei duelli In difesa E in attacco Così come i duelli aerei Hanno decisamente Una maggiore capacità Di fare dribbling Cioè Dribbling riusciti 61% A 55 E non ci mettiamo E non ci vergogniamo E non ci vergogniamo Cioè La squadra più tecnica Dovrebbe essere Assolutamente la Juve Che perde Meno palloni Ma ne perde di più Nella propria metà campo Perché abbiamo Questo dannato Atteggiamento difensivo E recuperiamo Meno palloni Del Torino E ovviamente Di meno Nella metà campo avversaria Stiamo leggermente meglio Per quanto riguarda Building ups E poi qui c'è Una serie di caratteristiche Che possiamo tralasciare Perché è irrilevante Se una squadra Sia più forte Sugli attacchi Da sinistra Rispetto a destra È un fatto di approccio Non è un fatto di Essere migliori Però Sviluppi offensivi 64 a 50 Contropiedi 12 a 13 Ma Qui dice 192 a 104 In realtà è 19 19% di efficacia Il Torino 14 la Juve Quindi anche il Torino Ovviamente È più efficace Della Juventus Per quanto riguarda I contropiedi Via la grafica Come gioca il Torino Quello che mi ha colpito Del Torino È la fase Di non possesso Cioè come si Sistemano in non possesso Chiaramente hanno Una difesa Tendenzialmente alta Un baricentro Della difesa alto Baricentro alto Proprio della squadra Appena perdono palla Vanno subito In riaggressione Alta e forte In che modo? Se l'avversario Costruisce Ad una velocità Medio-bassa Vanno semplicemente In pressing Uomo su uomo E vanno anche A raddoppiare E talvolta A triplicare Se invece L'avversario Va in transizione Quindi attacca In verticale Con una certa velocità Piazzano Un uomo Sul portatore Quest'uomo Del Torino Però non si fa Superare Quindi indietreggia Ad una velocità Inferiore Alla velocità Di attacco Dell'avversario In modo tale Da rallentarlo Favorendo I soccorsi Cioè l'arrivo Di altri giocatori Del Torino A raddoppiare O a triplicare Per frenare Arginare La ripartenza Questo lo fanno Soprattutto con i centrocampisti Per non stressare Continuamente La linea difensiva Che non è quindi Chiamata A fronteggiare Subito le minacce Ma hanno un centrocampo Che fa filtro Per semplificare Quando invece Hanno il pallone Lo spostano Continuamente Da una parte all'altra In maniera Non lineare Per essere Imprevedibili Cioè il Torino Non fa un gioco Basculante Oppure Martellante Cioè sempre dritto Avanti dietro O sempre orizzontale Vanno un po' di qua E un po' di là E ricorrono frequentemente Al corto lungo Quindi insomma Che la passano La danno all'indietro Corta E poi La tirano in avanti Per andare sulla profondità Ai passaggi Tra le linee Cioè a un certo punto Mentre un centrocampista Del Torino Ha la palla E sembra che la stia Per passare in orizzontale Non la dà in orizzontale Ma trova il compagno Nello spazio In avanti Per arrivare facile In zona rifinitura Aggrediscono l'area avversaria Con 3-4 uomini Alla volta Anche se non ci sarà Forse l'attaccante Di ruolo E crossano tanto Si affidano tanto Comunque agli sviluppi Offensivi Sugli esterni Ma mai In maniera Individuale E singolare Cioè i giocatori Vanno sulle fasce Per crossare Ma vanno a creare Delle microstrutture mobili Tendenzialmente triangolari Cioè se c'è un giocatore Del Torino Che tiene palla Immaginatevi La scena tipica Della Juve Quadrado Che tiene palla Sulla destra E sempre da solo Non gli va Nessuno Sopra palla E non gli si avvicina Nessuno Al massimo Allo scarico Dietro Di solito Di Danilo Invece il Torino Se ha L'esterno Alto A destra O a sinistra Che tiene palla Con gli avversari Già pronti A ricevere il cross E gli altri Giocatori del Torino Già pronti A riceverlo Oppure loro Dentro l'area di rigore Gli arriva qualcuno Sopra palla In sovrapposizione E gli arriva anche Qualcuno vicino Per lo scarico E fanno questa Microstruttura triangolare E sono quindi Imprevedibili Sono una squadra Imprevedibili Poi Segnano poco Stanno segnando poco Perché probabilmente Gli manca la qualità Gli mancano determinati Giocatori Ma Non c'è dubbio Non c'è dubbio Che il Torino Possa mettere Sotto la Juventus Dal punto di vista Del gioco Che possa palleggiare In faccia alla Juve Ci sarebbe magari Anche altro da dire Ma Ho sviluppato Ulteriori temi tattici Compresa la tabella Se la volete consultare Con calma Nella chat Riservata agli abbonati Sulla tattica Sul mio server discord Quindi andate Sul mio server discord Abbonatevi A partire dal livello Titolari Titolari e dirigenti E potrete sfruttare anche La chat Sulla tattica Dove abbiamo Appunto Tanti spunti E tanti dettagli Chiudiamo con Indisponibili E soprattutto formazioni Al Torino quindi Mancano Ricci Che ha avuto la febbre Pellegri Che ha una ferita E quindi non è riuscito Ad allenarsi al meglio E forse Sanabria Alla Juve Mancano De Sciglio Non sappiamo che fine ha fatto Di Maria Ovviamente Chiesa Che sta per rientrare Pogba Sparito pure lui E Caio Giorgi Pure lui Completamente sparito Ma è sparito Soprattutto Marley A che Che fine ha fatto A che si è fatto male Ad agosto E doveva star fuori Due mesi Mi sembra che siano passati Dov'è a che Io non l'ho più visto Non l'ho più sentito dominare Ed è un esterno destro Molto bravo Quindi sarebbe stato anche utile E invece Allegri Ha convocato Ilin Junior Che è un esterno Sinistro Per farci cosa Non si sa Perché appunto Veniamo alle formazioni Quella del Torino Dovrebbe essere Milinkovic Savic Gigi Schurz E Rodriguez Ola Aina Lukic Linetti E Voivoda E poi diciamo Un attacco a tre Ma senza punte Con Mirancuk Vlasic E Radonic Quindi Un attacco Comunque Una formazione temibile Una formazione solida Da Torino Per quello che Hanno già espresso Fin qui in questa stagione Ne abbiamo parlato Veniamo alla formazione Della Juve Cesdi Danilo Bremer Alexandro Quadrado McKenni Locatelli Rabbiokostic Ken Vlauic Allora Dovrebbe essere 3-5-2 Con difesa a tre Tutta brasiliana In cui però abbiamo Due terzini Danilo E Alexandro Danilo ormai si adatta Ma soprattutto Alexandro No Bremer Ritornerebbe Perché pare che Bonucci Non giocherà Sempre per questi discorsi Con la squadra Parlo tutti i giorni Nessuno ha chiesto Di non fare il ritiro Poi però ci sono Gli ammutinati O comunque ci sono Quelli che non vengono Più presi in considerazione E uno di questi È Bonucci Per motivi forse Strategici Politici Non si sa Ma Bremer Dicevo Potrebbe tornare a fare Quello che era Il suo ruolo al Torino Paradossalmente Proprio contro il Torino Ma non l'ha mai fatto In questa stagione Non l'ha mai fatto Con Danilo e Alexandro Quindi È un azzardo Non puoi provare Una cosa In una partita In cui sei disperato Tra l'altro contro L'allenatore Che quella cosa L'ha inventata Su quel giocatore Proprio con quel giocatore E quindi risulti Assolutamente prevedibile Cioè proprio Fai la figura Dello scemo A fare una cosa simile Rischi solo di fare La figura Dello scemo Ma dobbiamo assistere A questa roba Poi ovviamente Quadrato È una tassa Io non so Quando finirà Quando ci libereremo Di Quadrato Non se ne può più È un giocatore Totalmente finito Poi si segnerà Segnerà Quadrato Come nel derby Del 2015 E ricomincerà La risalita Andremo a vincere Lo Spudenzic Va bene Va bene Poi McKennie Ancora che deve giocare McKennie titolare Ancora McKennie titolare Rabiot Purtroppo È il miglior centrocampista Che abbiamo In questo momento Kostic Anche lui Non è mai entrato Nelle dinamiche Di questa squadra Kostic Non esiste A parte essere un giocatore A stento Discreto Eppure questo L'avevamo detto Ma anche per Kostic C'è stata una propaganda Di pomposità Esagerata E di trionfalismo Vergognoso Ma poi Locatelli Un'altra volta Locatelli regista Paredes Ancora escluso Io ve l'avevo detto Allegri ha cominciato A parlare di Paredes Come parlava di Artur Dicendo che va troppo a spasso Per il campo Cioè questo L'ha voluto Paredes Se l'ha fatto prendere Anche all'ultimo giorno Di mercato Sapendo che erano sei mesi Che non giocava Col Paris Saint Germain Lo ha sbattuto in campo 90 minuti alla volta Per troppe partite Poi con la scusa Che dovesse rifiata Che doveva rifiata Adesso non gioca più Perché non gli piace più Non gli piace più E poi in attacco Ken avrà la sua opportunità Con Vlaovic E speriamo Io spero Confido nell'attacco Confido nell'attacco Perché sono due 2000 Che non significa essere giovanissimi Che hanno sempre dimostrato Anche Ken Anche Ken Di metterci La grinta E la voglia Il problema di Ken Secondo me Non è stato tanto La voglia Di giocare Ma il contesto tattico Non è mai stato messo Nelle sue migliori condizioni È un giocatore un po' difficile Da mettere nelle giuste condizioni Perché non si adatta tanto Si adatta molto di più Vlaovic Però sono due Che non si arrendono Ecco Sono due indomiti A differenza di Rabiot che quando vuole cammina Kostic che non sa cosa fare Locatelli che cammina più di Rabiot Meccenni che Meccenni è disgustoso ragazzi Come fa a giocare in Serie A Uno con quel Con quel grasso addominale Ma come fa Se ne è parlato Ha sicuramente Un indice di massa grassa Troppo alto Per giocare in Serie A Ma per giocare proprio A livello professionistico È una vergogna È una vergogna Che non lo mettano E non lo mettano in forma Cioè veramente Non gliene frega nulla Meccenni E aspetta pure lui Di essere ceduto E poi Gli altri di cui Ho già detto Quindi Se sarà questa formazione Sarà una formazione Assurda Per come la vedo io Ma la commenteremo Ne parleremo anche Nell'anteprima Della live reaction Quindi dalle 17.30 Commenteremo Le formazioni ufficiali E tanto altro Aspettando il fischio Inizio E poi Godendoci Speriamo La partita Torino Juventus Che tanto Non determinerà L'Allegri Out Grazie per la vostra attenzione Buon dibattito Nei commenti Che partita vi aspettate Vi aspettate Nel caso L'esonero Che ne pensate Della formazione Che ne pensate Di come gioca il Torino E mettete like Al video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Delle notifiche Per non perdere I prossimi contenuti E abbonatevi A questo canale Come già detto A partire da soli 99 centesimi Al mese Per avere tanti vantaggi Le magliette Allegri Out Le trovate nella vetrina Qui in basso Ci vediamo molto presto E sempre forza Juve